Polenta con salsiccia e porcini. La polenta con salsiccia e porcini è un piatto di tradizione marchigiana, solitamente preparato con prodotti di stagione come i porcini, che crescono spontaneamente nei boschi delle Marche. Ideale per accompagnare le serate primaverili, questa ricetta è semplice da preparare e molto saporita. Ecco gli ingredienti che servono per preparare la polenta con salsiccia e porcini. 200 g di salsiccia fresca, 100 g di porcini freschi, 500 g di farina di mais, 1 litro di acqua, olio extravergine di oliva, un spicchio d'aglio, sale QB. Per preparare la polenta con salsiccia e porcini, segui questi semplici passaggi. In una padella antiaderente scalda un filo d'olio extravergine di oliva e aggiungi uno spicchio di aglio intero. Una volta che l'aglio sarà dorato, toglilo dalla padella e aggiungi la salsiccia sbriciolata e i porcini tagliati a dadini. Fai rosolare il tutto a fuoco medio e aggiungi un pizzico di sale. Fai cuocere per circa 10 minuti. A parte, in una pentola scalda l'acqua e, non appena sarà giunta a ebollizione, versa a pioggia la farina di mais mescolando con un cucchiaio di legno. Continua a mescolare fino a quando la polenta non si sarà addensata. Una volta pronta, aggiungi il condimento con salsiccia e porcini e mescola per amalgamare bene il tutto. Impiatta la polenta con salsiccia e porcini e servi subito. La polenta con salsiccia e porcini è un piatto di tradizione marchigiana ideale per accompagnare le serate primaverili. Una ricetta semplice da preparare, ma ricca di sapori e profumi.